Bentornati ragazzi su Jovi HD Spon Siamo qui con The Sims 4 Questo ragazzi è bene il quarto video che faccio Nel senso, ho fatto il primo video nel quale creavo il personaggio E è andato a farsi benedire Il secondo video non l'ha registrato E il terzo anche Questo quarto invece sono sicuro che sta registrando Sono sicurissimissimo Dunque, abbiamo iniziato questa nuova avventura su The Sims 4 Il nostro sim si chiama Jovi Spon E sta dormendo, quindi lo lasciamo dormire per ora Volevo raccontarvi un po' cosa ho fatto in questi primi gameplay che non avete visto Allora, ho selezionato le... come si dice? Questa... Il tratto, questo primo tratto E l'ho selezionato sul re della cucina La nuova aspirazione Ah, sì, l'aspirazione Poi io ho trovato anche un lavoro Assistente tramite chat Lavora 8 ore, prende 31 euro circa a ora Quindi non è neanche male Naturalmente se aveva un'ora dopo prende 31 sim di meno Non è euro, è sim Vabbè, sim monete, quello che è Poi le abilità Abbiamo l'abilità di cucina Forma fisica Gliardinaggio Programmazione Videogioco Bene Le relazioni con nessuno Solo con questa bambina Sono conoscente a malapena Conoscente a malapena Poi inventario Va bene, questo non c'entra un cacchio Questi Allegro Manettone Essenza del sapore È buono Bene Sono le 7 del mattino E sta ancora dormendo Tanto fra 3 ore vai al lavoro Comunque devi andare anche al bagno Quindi Ti dico di andare al bagno E tu vai al bagno Alzati, basta dormire Hai dormito abbastanza Poi ti fai una doccia Una bella doccia Rilassa Si, muoviti Lo so che ti sta scoppiando la vescica Muoviti Comunque Avevo chiesto Vi chiedo Vi ripeto Anche se non l'avete sentito Se Giovi avrà una promozione a lavoro Cosa che probabilmente avverrà Cosa possiamo comprarli? Gli compriamo Una sala Gli facciamo una sala da videogames Per videogames Oppure gli compriamo una bella cucina nuova Come si deve? Ragazzi voi che dite? Commentate? Ditemi cosa ne pensate Secondo voi Cosa possiamo fare? Cosa possiamo comprare? Un regalo a questo Giovi Eh, canta Sentiamo un po' Che canti fa Non canta neanche bene Guarda Eh, si vabbè Se hai ragione Lo so Che altro dire Le relazioni vanno male Sono conosciuto a malapena una bambina Vabbè È introverso È introverso Purtroppo Sì E Aspettiamo che va al lavoro Poi ditemi Se volete vedere altri gameplay Su The Sims 4 Lasciando un bel Like su questo video Per altri gameplay Se vedo un bel po' Se vedo un bel po' di likes Almeno 10-15 Vai 15 likes Ne chiedo poco Ne chiedo pochi Perché so che The Sims Non è un gioco Che viene apprezzato particolarmente Però Si potrebbe rilevare un gioco Molto molto bello Molto Molto aperto Nel senso Con molte possibilità Di fare azioni Di costruire Potrebbe essere davvero un bel gioco Il gioco inizierà a lavorare Fra circa Un'ora E va male Va male Va male Perché si mette a giocare al computer E ci mancherebbe Dice Fra un'ora vado a lavorare Ora mi metto a navigare su internet Intanto I bisogni stanno tutti a posto Quindi Bene 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 E arriva il momento di andare a lavorare Come al suo solito Sparisce Ora si velocizza il tempo E Direi di andare direttamente A quando Arriverà da lavoro Ah Promozione Che bello E dunque Ha ottenuto una promozione Già l'ha ottenuta La promozione Allora Io Opto Per Siccome fa il troll Il troll Nei forum Che bastardo E' un bastardo E' un bastardo Veramente un bastardo Io direi Di fare qualche cambiamento Facciamo qualche cambiamento No Questo è il primo episodio Non devo fare i cambiamenti Nel secondo episodio Inizierò ad aggiustare qualcosa In questa casa Non fa Basta fare il troll Dai L'hai fatto già abbastanza Vai a pisciare Per favore Basta A lavoro Vediamo a lavoro Raggiungi livello 2 di programmazione Computer Leggi un libro di programmazione Esercitati nella programmazione Esercitati nella programmazione Esercitati nella programmazione Esercitati nella programmazione Vai Arrazo Bravo Tanto le cose vanno bene Più o meno Direi Direi di si Vogliamo subito avere una seconda promozione E ora quanto guadagni Scusa Guadagni 38 euro 38 sim Sim monete a ora 38 s 38 s A ora Raggiungi livello 2 Bene 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 Lavorerai anche un'ora di più Controllo qualità Al lavoro fra 13 ore Tu stai lì E tra poco mangia Poi dormi Facci Fai Una cucina Una cucina Fai patatine con salsa Dopo le fai E dopo togli anche il latte Brava quel figlio E poi vai a dormire Basta qui Basta qui Basta Basta Ma guardate quanto è bravo Già le ha ritocchi in poltiglia Ma se Si cosa stai pensando Magari fosse un piatto di bistecca Eh non ce l'hai la bistecca Eh purtroppo non è Dai continua a tagliare Pam 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 Questo è da inserire nel libro di cucina Dici Basta che ti muovi Senti che odore Va bene Mmm buono Mmm ma senti Mmm che buono Livello superiore Giovanni Giovi ha raggiunto livello 3 nell'abilità cucina Giovi ha imparato le ricette Nel Della tilapia Fritta Fritta in padella Dei biscotti con scaglia di cioccolato E delle frittelle Uno può parlare Di cucina con altri sim Buono Bravo Il mio Giovi Cos'è Giovi Ah è scarso E vabbè tanto poi tra poco vai a lavorare Ti stanchi Eh pulisci un po' Tanto vai a lavorare tra Tra un dici ore Quindi giusto appunto per alzarti Poi Terminare Terminare la giornata Eh giusto no Mmm è buono È buono Qualità buona Infatti è buono 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 Non è eccellente È buono Vabbè Puoi preparare 5 porzioni multiple di formaggio grigliato Ma non c'era il formaggio grigliato Oppure si Formaggio Ah grigli Si si Formato famiglia 5 porzioni multiple Boh vabbè È finito di maniare Ora pulisci Pulisci anche qua E poi vai a fare la nanna Vai a fare la nanna Ti ho già selezionato l'azione E andrai a fare la nanna Bene Giovi va a dormire E quindi Si conclude qui questo gameplay Ditemi cosa ne pensate Lasciando un pollice all'insù Se vi è piaciuto un dislike Se non vi piace The Sims Se volete che continui Commentate E dunque Alla prossima Ciao ragazzi